Bentornati a Panorami. I numeri sono sempre importanti e rappresentano uno dei modi migliori per cercare di fondare un ragionamento. E allora partiamo dai numeri, in particolare da quelli che il presidente di ASSO Lombarda, Alessandro Spada, ha pronunciato nel corso dell'Assemblea Generale dell'Associazione Imprenditoriale della Lombardia, tenutasi a Langardilinate. Con il 2% del territorio italiano, ASSO Lombarda, le province su cui ASSO Lombarda rappresenta la gran parte del mondo imprenditoriale, producono circa il 13% del PIL. Si tratta di numeri giganteschi, numeri davvero importanti, quelli che segnano per l'appunto la centralità dell'industria e dell'impresa manifatturiera del nord. Ebbene, da maggio a oggi queste imprese, insieme alle altre parti produttive dell'Italia, hanno agganciato il rimbalzo, qualcosa di non così prevedibile, soprattutto nei primi giorni successivi al lockdown. E oggi sono terrorizzate letteralmente, molto preoccupate che un secondo lockdown possa bloccare questo rimbalzo e possa rappresentare un ostacolo insormontabile per questo nostro paese che ha bisogno di essere rilanciato. Si tratta di un problema interno e anche al tempo stesso di un problema di carattere generale, perché l'arresto della fase positiva, del tentativo di recupero che ha portato a risultati non così diversi da quelli degli stessi mesi dell'anno scorso, ha a che fare anche con il rischio di un lockdown in altre parti del pianeta. Perché l'Italia è un pezzo di una catena del valore globale e il terribile, maledettissimo Covid minaccia con la deglobalizzazione tutte le filiere generali, internazionali che producono per l'appunto ricchezza. Questi sono i numeri del privato. E poi guardiamo i numeri pubblici, i numeri dello Stato. Il governo ha stanziato 3,4 miliardi dall'inizio dell'epidemia sostanzialmente attraverso una serie di scostamenti di bilancio, attraverso massicce destinazioni di risorse per la sanità. E i 20 sistemi regionali che caratterizzano la nostra frastagliata sanità pubblica hanno reagito in maniera naturalmente molto diversa, ma complessivamente di queste risorse solamente un terzo sono state impegnate. Naturalmente quello del federalismo sanitario e della differenza tra i vari apparati pubblici della sanità del paese è un problema molto rilevante e molto significativo, che vede punte di eccellenza e di efficienza comparate a situazioni molto problematiche invece e al contrario. Il nodo però è che complessivamente, a parte le regioni per l'appunto che si sono date da fare di più, ci sono due terzi di quella risorsa che non sono pronti. E se pensiamo che il ministro Speranza ha presentato un piano da 29 miliardi sulla sanità di fronte all'incapacità di impegnare e di mettere a frutto già quelle risorse più limitate previste dal governo, ecco allora dove andranno? Come faremo a gestire i soldi del Recovery Fund? Sono domande molto seria, domande che rimandano alla necessità di ripensare una parte dell'assetto generale istituzionale e soprattutto di pensare alla qualità delle classi dirigenti e in questo caso non stiamo parlando di quelle al governo.